Ciao ciclisti, eccoci la Giangi su Ponte Milvio con il suo Segway Mini che mi aspetta ma io non sono ancora salito e quindi qualche passaggiuccio, siamo arrivati dalla stazione, 6 km ragazzi abbiamo preso delle ciclabili carine ma quando mancano le ciclabili a Roma mancano anche i marciapiedi cioè ci sono stati degli attimi di panico, magari di poche centinaia di metri ma la situazione romana è così ragazzuoli ecco la Giangi che arriva, guardala, su Ponte Milvio ragazzi, grande Giangi, com'è il Ponte Milvio, com'è, com'è? Siamo voluti venire a Ponte Milvio e ragazzi credo che una delusione peggiore di questa solo se esci dal ristorante ti hanno rubato la macchina, comunque questo è Ponte Milvio, ne siamo sicuri e cara Giangi, Ponte Milvio, Ponte Milvio, sembrava un'attrazione che in confronto a Francesca era nessuno poca gente, mamma mia un disastro, vabbè vabbè cara Giangi adesso tra un chilometro e mezzo abbiamo raggiunto l'hotel e vai, si mangia, si mangia, così vengono qua signori un saluto dal ferro della Giangi in test long run per le strade di Roma buche annesse, un saluto ciao ciao